Anche quest'anno, come tutti gli altri, avrei voluto ospitare la premiazione del concorso letterario Fondrezzori a Palazzo Vecchio. La tradizione si interrompe questa volta per l'emergenza del Covid-19, ma nonostante questo la quattordicesima edizione si svolge online ed è per questo un messaggio di resistenza, di resilienza, ma anche di speranza. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori di questa quattordicesima edizione e soprattutto congratularmi per aver dedicato il premio alla migliore traduzione in italiano. È un gesto di grande apertura alla cultura, alle relazioni internazionali ed è la conferma di quanto Firenze voglia simboleggiare sempre di più una realtà globale capace di costruire ponti con il mondo intero e non ergere muri. Il premio alla traduzione è per questo un tributo alla grande esperienza di letteratura tradotta nella nostra lingua e anche un omaggio alla bellezza dell'italiano. Ancora grazie e in bocca al lupo perché l'anno prossimo ci rivedremo tutti a Palazzo Vecchio. Il premio Fon Rezzori non può festeggiare a Firenze i cinque scrittori finalisti con i loro traduttori né tantomeno tenere la tradizionale cerimonia conclusiva a Palazzo Vecchio, ma non per questo Beatrice Monti Fon Rezzori e noi tutti i componenti della giuria abbiamo voluto rinunciare al dialogo, a un diverso modo di stare insieme, di parlarci, di onorare la letteratura come irrinunciabile strumento di conoscenza, capace di dare un senso alle cose ordinandole in un racconto e di costruire ponti tibetani. La lezione magistrale è stata affidata a Jennifer Clement che ce ne leggerà le pagine più significative. Il testo completo sarà pubblicato poi in volume, prossima uscita presso Guanda, che raccoglie i testi delle conferenze inaugurali degli scrittori che sono stati ospiti del premio in questi anni a Firenze. Grandi personalità come Carlos Fuentes, Michele Ondaci, Patrick McGrath, Jun Palairi, Emanuele Carrere, Margaret Atwood e Com Toy Bin. Ho il piacere di presentarvi Jennifer Clement che viene da una famiglia di diplomatici americani che si è trasferita a Città del Messico quando lei aveva un anno, lì è cresciuta, ha perfezionato i suoi studi negli Stati Uniti e Parigi, ma poi lì è tornata a vivere e vive tuttora. Nel 2015 è stata nominata presidente del Penn International, prima donna a rivestire questa carica dalla Fondazione nel 1921. Ha esordito negli anni 90 con alcuni volumi di poesia molto apprezzati. In prosa si è rivelata nel 2000 con una vivace rappresentazione del mondo artistico di New York che negli anni 80 ruotava intorno alla figura febbrile di Jean-Michel Basquiat, un talento selvaggio e autodistruttivo che muore di eroina a soli 27 anni dopo aver bruciato ogni possibile tappa esistenziale e artistica. Le opere narrative di Jennifer Clement, come le ragazze rubate tradotte da Guanda, nascono da una conoscenza diretta e approfondita del Messico, un paese dominato dai narcos, dalle bande criminali che rubano le ragazzine per avviarle alla prostituzione, impongono la legge della violenza e del terrore, il Messico degli ultimi, degli sfruttati, dei disperati. La Clement si è sempre schierata dalla parte di quelli che lei chiama gli unprotected, gli indifesi cui nessuno provvede, i soggetti più fragili che vivono ai margini della società nelle condizioni più disagiate. Queste sono prese di posizione che comportano anche un notevole coraggio personale perché in Messico assassini e violenze contro giornalisti e scrittori sono purtroppo una pratica diffusa. Il suo romanzo più recente, tradotto da Bonpiani, si intitola Gun Love ed è ambientato in un angolo dimenticato della Florida. L'amore del titolo è quello che lega le due protagoniste, una madre e una figlia. Questa madre, Margot, delicata, amante della musica, dolce e arrendevole ma ingenua e sprovveduta, viene da una famiglia benestante da cui è fuggita dopo aver avuto una figlia di 17 anni e vive con lei in una vecchia Mercury sistemata in un parcheggio di roulotte. Vive facendo le pulizie in un ospedale per reduci dell'Afghanistan, a raccontare proprio la figlia Pearl, così chiamata per la sua pelle troppo chiara. Il destino di questa ragazzina è segnato anche perché il parcheggio della roulotte è anche il centro nevralgico di un traffico di armi illegale che ha uno dei suoi terminali in Messico. E sono le armi, i Gun del titolo, una vera ossessione per quella piccola comunità di spostati ma anche per l'intera società americana. Jennifer Clement racconta con asciuttezza, con la crudezza di Cormac McCarthy. La sua pietà sta tutta tra le righe, nel non detto tra riferimenti biblici, materiali country è anche un sapiente ricorso alle immagini. Fa parlare gli oggetti, le cose, si vieta il sentimentalismo. Il riscatto degli ultimi passa proprio attraverso la dura oggettività del referto che non consente illusioni o scappatoie. Ancora una volta tocca alla letteratura disegnare le mappe dei mali che devastano le società contemporanee e che è anche troppo comodo far finta di non vedere. La sua pietà è stata fatta. Da qui, per tantissime settimane, noi in Messico abbiamo avuto le nostre menti e le nostre in Italia, come abbiamo visto il risultato, il risultato, il risultato, il risultato e il coraggio dell'Italiano. E questa vigilanza è constanta. Come la seconda maggioranza catholica del mondo, Mexico always looks to Italy as part of itself. Before I read only the opening to my lecture, Beatrice asked me to speak a little on Penn, as I am the President of Penn International. Penn was established in 1921 and sees literature as playing a significant role in developing mutual understanding, dialogue and peaceful debate. Penn has also worked to safeguard against all kinds of censorship, and its members across the globe believe in a personal responsibility to help a writer imperil, challenge repressive governments, and keep vigil outside of prisons. It is impossible to know how many writers Penn has saved or helped over these 100 years, but there is no doubt that a world without Penn would be even more fragile and less hopeful. It is a true honour to have been asked this year to give the Magisterial Lecture on the 20th anniversary of Santa Maddalena. My first visit was as a resident writer, and I immediately loved the place created by Beatrice, and so coloured by the presence of her husband, Gregor von Dresori. But what is most special is Beatrice's vision, or a kind of credo, which is, if all else fails, because of war, loss of love, solitude, love, loss of protection, there is beauty, the beauty of landscape, great writing, art, and friendship. This is part one of my lecture, Poems and Errors. Ovid said his reason for banishment for Rome was due to Carmen at error, a poem and an error. These two words have walked together for over 2,000 years, and might seem not to speak to one another. For me, these two words lead, as two ships, toward two north stars. What was Ovid's error? He was so discreet on this that scholars and historians are not sure exactly. And what is an error? Is it a mistake that may be rectified? Is it different to an accident? Does it stand in the ideas of chance or fate? Was an error the unintended consequences of unwilled circumstances? Or, in the words of Ovid, desire and reason pulling in different directions? My interest in both poems and errors comes from Mexico, where I was raised and still live. Mexico prepared me to see error as discovery, confusion, and clarity. Both art and history reflected my everyday life. The small ex voto paintings of Thanksgiving in churches, chapels, and in people's homes depicted all kinds of calamities and supernatural events. In the surreal paintings of Remedios Varo, Frida Kahlo, Francisco Toledo, and Leonora Carrington, I could see a rooster make love to a woman, the moon being fed, a marble floor turning into a person, and a woman sewing herself into being. Even on the day of the dead skeletons could be pregnant. The pre-Hispanic world of beauty, terror, and contradiction was also a constant and very real presence. We knew that the steps of the pyramids we climbed had been covered with rivers of blood from hearts that were taken out, still beating, from the victims who were sacrificed to the sun god. In art and history, but also in everyday life, the Mexican order or disorder of things meant I could go to a Catholic Mass in the morning, and a bloody cockfight in the evening. The circus that came to our street every September always had a show of a boy with two heads. And we knew that if you touched the dust from butterfly wings, you could go blind. In Mexico, we knew that inanimate objects could also make mistakes and be punished. One of the 38 great bells known as La Castigada, the Punished One, above Mexico City's Grand Metropolitan Cathedral, killed a novice bell ringer when the young man made the mistake of standing under the great two-ton bell. The bell was punished. The sentence was silence. Silence forever. In my neighborhood of San Angel, I remember how during storms the cobblestones would be covered with small, delicate hailstones turning everything white. I'd pick up the ice balls and place them in my mouth like sweets. The neighborhood gardener, Apollinar, said that these storms ruined his gardens. He had been a bullfighter. He'd roll up his worn-out trousers and show me the round, horn-shaped wounds in his legs, which were the white and gray color of oyster shells. These, he said, are the scars from all my errors. What I have described here has to do with error, but it also has to do with poetry. Poetry as the search for truth and solace before the invisible, and poetry as the expression of transformation. When I learned about Ovid and his banishment for a poem and error, and when I read his extraordinary poem, Metamorphosis, which he called his Book of Changes, I already knew that a laurel tree was really a goddess, and that you could look at someone and turn to stone. I already knew that an error and a poem could make a woman change into a siren, stream, stag, rock, and constellation, and even into a staircase of stone steps. As I said, this is only the opening to the lecture, which explores the connection between poetry and error. Thank you. Thank you. Good example. Yeah. Grazie a tutti